Ciao raga, allora questo è un cruiser di Santa Cruz, è la Crane Dot 27 pollice 7, una tavola molto figa e semplice da usare, grafica a me piace particolarmente, veramente bella. Anche qua abbiamo delle ruote morbide, sono ruote per andare su qualunque tipo di superficie e sopra il grip è spruzzato, cioè viene spruzzata la colla con dentro i pezzettini di vetro e vi fanno da grip, ha un leggero tail, un leggero nose, ovviamente i trick non ce li fate ma vi spingete su qualunque superficie e vi divertite, bella.